La differenza di temperatura ha un simbolo molto semplice, delta T. Tra delta e T non c'è un per, delta T significa semplicemente la temperatura finale meno la temperatura iniziale, finita lì. Ma la domanda del secolo è, se un corpo cambia di 10 gradi centigradi la propria temperatura, di quanti gradi Kelvin cambia? Perché ci sono solo due opzioni. Quindi qui non sto parlando di temperatura ma di differenza di temperatura. Le due opzioni sono, beh, devo fare 10 più 273. Non scrivete perché uno dei due è sbagliato. Ok? Quindi o è così oppure è, beh, visto che non è una temperatura ma è una differenza di temperatura, allora anche la differenza in Kelvin è sempre 10. Ditemi. È giusta, ragazzi, la seconda. Solo che forse tutti non l'hanno capito perché. Ok? Perché un po' lo penserebbe, beh, però, ci ho appena detto che ogni volta che c'è i Celsius devo aggiungere il 273. Allora, è giusta la seconda. Intanto. Cioè, quando si ragiona col delta T, cosa succede, ragazzi? Che ragionare in Celsius o ragionare in Kelvin è la stessa cosa. Esattamente, Costantino. Nel senso che, essendo una differenza, cosa succede? Che la temperatura finale sarà 273 volte più alta. Quella iniziale sarà 273 volte più alta. E col meno si semplificano. Ma adesso facciamo un esempio così è chiaro. Questo è importantissimo e farà parte sicuramente di una domanda. Abbiamo una temperatura iniziale in Celsius che, ad esempio, ragazzi, fa 12 Celsius e una finale che fa 30. Quanto vale delta T? Come si fa a calcolare? Delta T in Celsius. Come si fa a calcolare? 30 meno 12. Che fa? 18. Celsius. Ora, se io vi chiedo il delta T in Kelvin, uno dice, beh, prof, lei ci ha insegnato non a trasformare i delta T, ma a trasformare le T. Quindi, trasformiamo lui in Kelvin. Cosa viene? Una temperatura iniziale di? 285 Kelvin. Ho aggiunto 273. Qui? Dai. 303 Kelvin. Ora, adesso tutte ne ho capito. Che differenza c'è tra 303 e 285? Per forza, ragazzi, perché ho tirato su tutte e due di 273. E quindi la differenza è sempre la stessa. Quindi, negli esercizi, se c'è T, questa è come indicazione della vostra mente, se nelle formule, quindi, c'è T, bisogna assolutamente mettere sempre in Kelvin. Sempre. Perché i Celsius sono, è un'unità non corretta. Ok? Ma, se nella formula c'è delta T, si può tranquillamente usare anche i Celsius o i Kelvin. Perché tanto? Cosa abbiamo visto? Che se un corpo cambia di 18 Celsius, sta anche cambiando di 18 Kelvin. E faccio un esempio e chiudo il video. Ci sono delle formule, ok? Vi faccio vedere, ad esempio, una formula in fisica dove c'è T e una dove c'è delta T. Così capite di cosa sto parlando. Ad esempio, c'è una formula, ragazzi. Non vi dico neanche che cos'è, però così capite se usare i Celsius o i Kelvin. Che vi introdurrò tra poco. Che si chiama la legge di dilatazione termica. E la formula è così. Ditemi solo... Non guardate neanche le quantità, tanto le guardiamo tra un secondo. Mi dovete soltanto dire se posso usare i Celsius o i Kelvin. O entrambi. Mentre questo è legato all'energia emessa da una stella. Comunque da un corpo nero. E questa energia è proporzionale, quindi è collegata, a una costante per T elevata alla quarta. Ok? Sigma. Sì, costante di Stefan Boltzmann. Ma adesso a noi non ci interessa. In fisica esistono delle formule dove c'è il delta T e dove c'è soltanto la T. Allora. Poi noi ne vedremo un'altra. Noi ragazzi vedremo anche questa formula. Allora, noi potremmo usare in quella a sinistra sia i Kelvin sia i Celsius. Sì o no? Sì. Sì. Quindi, per adesso se io vi dirò, passiamo da 30 gradi centigradi a 40 gradi centigradi, delta T fa 10. Ok? Non bisogna fare la conversione in Kelvin. Mentre qui bisogna assolutamente lavorare in Kelvin. Vediamo se qualcuno capisce perché. Pensate di elevare una cosa alla quarta, no? È diverso se elevate 1 alla quarta o 274 alla quarta. Cambia drasticamente il risultato. Quindi, quando c'è T e basta, uno dei due è sbagliato, quello sbagliato sono i Celsius e quello giusto sono i Kelvin. Quando c'è la differenza di temperatura, è tanto uguale. E non stupitevi, se noi dal punto di vista fisico affronteremo questa formula e questa. Quindi per adesso il rassunto è che siete salvi. Ok? Non siete obbligati a dover passare in Kelvin. Grazie a tutti. Grazie a tutti.